Ciao ragazzi, ben ritrovati come sempre qui sul mio canale YouTube. Per chi di voi mi segue in modo particolare su Instagram, vi lascio qui sotto in descrizione il link per poterlo fare, qualora lo voleste ovviamente, sa benissimo che in questi giorni sto testando diversi software per il recupero di file di dati cancellati dal nostro computer. Ne stiamo parlando molto anche sulla chat Telegram di supporto, anche di essa il link qui sotto in descrizione, qualora voleste dare il vostro contributo oppure ricevere aiuto, potrete iscrivervi. Insomma ne stiamo parlando perché dopo il mio tutorial su come installare macOS monterei sui Mac non supportati, diversi di voi purtroppo hanno commesso l'errore di formattare la partizione principale senza aver effettuato il backup di Time Machine che raccomando sempre in ogni tutorial e insomma hanno visto tutti quanti i dati andare persi e per dati ragazzi intendo fotografie, documenti, archivi zip, insomma chi più ne ha più ne metta. Allora anche per questo oggi è arrivato il momento di testare un nuovo software e sto parlando del sistema di data recovery di Stellar. Stellar è un'azienda leader nel settore, molto molto conosciuta, il loro software è davvero molto completo, attento ai dettagli perché ci sono delle chicche che in altri software non ho trovato e tra l'altro molto semplice e preciso da utilizzare. Ringrazio Stellar perché sponsorizza questo video ma ragazzi voi sapete benissimo che se tornate qui sul canale se continuate a seguirmi è perché io sono sempre profondamente libero nell'esprimervi le mie opinioni dunque se una cosa funziona bene ve la porto qui sul canale se una cosa non funziona ecco comunque sono pronto a dirvelo e a darvi sempre notizia di ciò dunque potrete stare tranquilli da questo punto di vista. Prima di andare ad effettuare il test vi dirò in che cosa consisterà ecco che abbiamo alcune specifiche da fare. Innanzitutto di questo software esistono due versioni da un lato quella free dall'altra quella a pagamento. Evidentemente ragazzi la versione free un po' come tutte avrà delle limitazioni. In questo caso non stiamo parlando di limitazioni dovute al recupero di due tre file soltanto ma al recupero di un massimo di un gigabyte di dati dunque comunque un valore molto molto esteso se si tratta di documenti o poche fotografie. Dall'altro lato avremo ulteriori limitazioni nel fatto che rispetto alla versione a pagamento non potremo sfruttare per esempio il recupero di dati da partizioni che sono state perse in precedenza così come non potremo ripristinare o recuperare dati cancellati dopo un crash di sistema oppure altro dunque attenzione anche a questo dunque valutate sempre l'acquisto della versione a pagamento chiaramente se vi serve fare una cosa di questo tipo e tra l'altro all'interno della versione a pagamento esistono diverse fasce di prezzo per sbloccare talune o altre funzioni insomma in base a quello che vi occorre. Valutate tutto quanto questo ma ve lo farò vedere anche all'interno del video. In cosa consiste la prova che poi è la mia classica prova? Avrò delle fotografie copiate su una pendrive copia che precedentemente avrò effettuato partendo dal mac poi collegherò questa pendrive sul sistema operativo windows infatti vi farò il tutorial proprio su windows ma il software è multipiattaforma quindi potrete sfruttarlo anche con mac os insomma collegherò la pendrive sul sistema windows andrò a cancellare la cartellina la sposterò dunque nel cestino ed eliminerò i file ovviamente ragazzi utilizzando la versione gratuita ci limiteremo al recuperare dei dati spostati nel cestino ed eliminati sbadatamente perché qualcuno di voi utilizza il cestino come se fosse un archivio purtroppo succede anche questo però ragazzi vi garantisco che qualora acquistaste la versione a pagamento lui è capace di recuperare anche dati su supporti precedentemente formatati e formatati anche più volte non soltanto in modalità veloce ma anche in modalità approfondita certamente ci vorrà più tempo ma va bene ragazzi non mi dilungo oltre se vi va se il video vi sarà piaciuto già vi chiedo adesso di iscrivervi al mio canale youtube insomma per ricordarvene di lasciare un like perché per me è la più grande forma di supporto ragazzi davvero ve lo chiedo di aiutarmi in questa maniera e se volete c'è anche il mio canale telegram delle offerte sapete benissimo trovate offerte codici sconto errori di prezzo minimi storici ma trovate anche offerte warehouse quindi l'usato garantito da amazon e fare degli ottimi acquisti anche da questo punto di vista non mi dilungo oltre ci spostiamo sul computer e vediamo il tutto e allora ragazzi come prima cosa apriamo il nostro browser quello che utilizziamo comunemente ma è chiaro vale per tutti e richiamoci sulla pagina del produttore che chiaramente è stellar vediamo che è possibile effettuare diverse operazioni nel senso che potremo scaricare la versione gratuita del software ed è quella che utilizzerò io e che vi mostrerò ma potremo anche passare a delle funzionalità pro quali sono le differenze anzitutto con la versione gratuita potremo recuperare ragazzi fino ad un gigabyte di dati che sono stati persi o cancellati potremo farlo chiaramente su tutti quanti i computer documenti foto eccetera questo non cambia vedete possiamo recuperare anche da disco rigido unità flash dove si intende non solo usb ma anche delle schede di memoria sd micro sd eccetera ma quali sono le caratteristiche della versione pro che io vi consiglio comunque di andare ad acquistare ragazzi perché ci sono davvero tantissime cose in più che possiamo effettuare lo andiamo a vedere proprio in questa sezione vedete ricevi più vantaggi con la versione a pagamento possiamo recuperare i dati da un sistema che è andato in crash quindi che si è praticamente riavviato oppure che si è bloccato e sapete che su windows questo è molto molto frequente possiamo andare addirittura a recuperare i dati dalle unità che erano poste in raid possiamo riparare foto corrotte possiamo recuperare i dati qui dice da partizioni sbarrite vale a dire partizioni che sono state praticamente cancellate ma vedete possiamo recuperare i dati anche da un drive virtuale oppure riparare video corrotti vedete abbiamo anche il recupero dei dati su dischi rigidi 4k cioè vale a dire dischi rigidi da 4 terabyte in su così come vedete c'è uno strumento che supporta il dual monitor nel senso che potremo praticamente utilizzare su più schermi l'applicazione cosa che altri software non permettono e dunque continuare tranquillamente a lavorare mentre si sta facendo la scansione ok andiamo a vedere prima di scaricare il tutto la versione pro vedete c'è una tabella con le diverse possibilità free standard professional premium technician e toolkit qui abbiamo tutte quante le caratteristiche che sono abilitate o meno e qui sotto ragazzi abbiamo i prezzi vediamo se riesco a farmi dare qualche codice sconto in ogni modo è un software che io ho già provato ed è davvero fantastico perché recupera davvero tutti sapete che in questo periodo ve l'ho già accennato sto provando diversi software ok andiamo a effettuare il download gratuito vedete disponibile anche per mac quindi è multi piattaforma andiamo a cliccare il pulsante verde e diamo il via al download praticamente il file verrà scaricato ci chiederà dove andarlo a salvare per comodità metto sul desktop e vi faccio vedere che io l'ho già scaricato ok posso abbassare la finestra del browser questo è il file e questo apparirà la prima volta quando viene avviato clicchiamo su esegui attendiamo che venga caricata la schermata di installazione andiamo a dare conferma per consentire al software di apportare delle modifiche ora vedete andiamo a scegliere la lingua ce ne sono diverse è importante che ci sia anche l'italiano e diamo ok perfetto siamo nella schermata principale clicchiamo su avanti accettiamo il contratto di licenza scegliamo il percorso dove andare ad installare il nostro software e adesso non ci resta che andare ad attendere il download di tutti quanti file aggiuntivi infatti il programmino che abbiamo scaricato all'inizio era semplicemente un programma che permetteva di avviare il download e allora ragazzi come avete visto download dei dati aggiuntivi avvenuta con successo file scaricati completamente e software installato adesso possiamo lasciare spuntato avvia stellar data recovery vedete si è creata anche qui l'icona e clicchiamo su fine clicchiamo su sì per dare conferma alla modifica dei dati e attendiamo il suo caricamento perfetto schermata principale caricata prima di andare a vedere le diverse opzioni vi faccio vedere cosa abbiamo qui impostazioni guardate possiamo andare ad avviare o disattivare l'anteprima vale a dire che durante la scansione dei file potremo scegliere di vedere in anteprima prima di recuperare tutto ciò che il software ha rilevato ha trovato sul nostro computer tra l'altro possiamo anche vedete visualizzare l'anteprima delle foto che sono state danneggiate in modalità sicura vale a dire che durante la scansione queste foto verranno messe diciamo in una zona sicura in maniera tale da non compromettere il recupero stesso e poi verranno aperte chiaro che ci metterà un po più di tempo andiamo qui vedete abbiamo i file che possiamo andare a recuperare ma ce ne sono tantissimi questi sono solo quelli di foto audio e video guardate abbiamo documenti dati di archiviazione applicazioni testo e tantissimo altro qui potremo spuntarle o meno perché se ci interessa recuperare solo e soltanto delle foto lui andrà ad effettuare la scansione solo su questi formati o su quello che ci interessa qui potremo andare ad aggiungere un'intestazione o a modificarla nel senso che potremo aggiungere delle informazioni ai diversi file per esempio se clicchiamo qui so come aggiungere intestazione vedete nome del software estensione del file eccetera se non sappiamo semplicemente andiamo ad aggiungere dei file e lui li andrà a ricavare in automatico ma questo ragazzi potete tranquillamente lasciare in questa maniera possiamo riprendere un recupero e questo è fondamentale qualora avessimo degli hard disk molto molto grandi e richiedessero chiaramente molto molto tempo per il recupero se volessimo spegnere il computer di notte possiamo mettere in pausa e riprendere praticamente il giorno dopo e qui avremo tutto quanto l'elenco delle scansioni in corso qui possiamo verificare la presenza di aggiornamenti sulla chiave possiamo andare ad attivare il software con una licenza qui andare a cambiare la lingua e qui invece le informazioni per ora lasciamo così e andiamo ad utilizzare la versione gratuita allora andiamo a selezionare che cosa ripristinare tutti i dati vedete documenti cartelle e mail eccoli qui file multimediali per comodità ragazzi lascio selezionati tutti quanti i file perché la prova che faccio è sempre la stessa nel senso che entro qui in questo pc vedete c'è collegata la mia pendrive con al suo interno la cartella fotografie queste fotografie che vedete qui e tra poco ve le mostrerò anche in anteprima sono state tutte quante copiate da mac dunque non da windows allora vi faccio vedere l'anteprima dei file così vi renderete conto una volta recuperati che realmente sono loro vedete i classici file che utilizzo per questa operazione ecco qui perfetto ora cosa faccio torno indietro e vado a spostare la mia cartella nel cestino do la conferma cartella spostata dunque non c'è più niente vi ricordo che lascerò tutti quanti file così successivo adesso vado a scegliere la mia pendrive senza nome e ovvio ragazzi che una partizione andata persa non potrà essere recuperata perché non ho la versione a pagamento ma voi potrete farlo tranquillamente quindi lascio senza nome selezionato vi faccio vedere che posso andare anche a cliccare se effettuare subito o meno una scansione approfondita per il momento ragazzi lascio scansione generale quindi non approfondita per vedere per provare se effettivamente il software recupera i file dunque vado a cliccare su scansione posso anche andare a disattivare l'anteprima qualora volessi vedere solo e soltanto questa visualizzazione oppure avviare l'anteprima perché durante le varie fasi ecco che lui mi andrà a mostrare i file che nel frattempo ha recuperato perfetto ragazzi vedete scansione completata con successo trovati sette file in tre cartelle vado a dare l'ok file sono qui prima di andarli a recuperare mi basterà cliccarci sopra lui andrà a caricare l'anteprima ed eccola qui vedete uno dei file che avevo cancellato qui vediamo gli stessi nomi che avevo nella pendrive vedete la fotografia ci sono praticamente tutti adesso vado a cliccare sul recupero è chiaro che li devo andare a selezionare ovviamente riceverò l'avviso che il recupero sarà limitato ad un gigabyte posso effettuare l'upgrade oppure no e vado a cliccare su più tardi adesso scelgo il percorso dove salvarli sul desktop ho già le mie vecchie fotografie vado quindi a scegliere per esempio un'altra cartella non so all'interno dei documenti quindi seleziono documenti e vado a fare inizia il salvataggio file recuperati chiudo il programma non mi serve andare a tenere traccia della scansione vado nella mia cartella documenti e vi faccio vedere che troverò la cartella salvata route fotografie eccole qua le mie fotografie vado per esempio ad aprire la prima fotografia ed eccola perfettamente recuperata così come tutte quante le altre perfetto amici allora lo avete visto voi stessi ritengo il software molto molto completo mi sono piaciuti alcuni dettagli come per esempio il fatto di poter eseguire prima una scansione rapida e poi una approfondita perché magari con file cancellati spostati semplicemente nel cestino ed eliminati senza una formattazione appunto dell'unità oppure di una partizione ecco lui li recupera davvero in maniera molto molto veloce è chiaro ragazzi che qualora invece voleste recuperare file da supporti formatati anche più volte non solo vi occorrerà la scansione approfondita ma necessariamente dovrete anche acquistare la versione completa del software bene detto questo amici davvero non ho altro da aggiungere perché ripeto avete visto tutti con i vostri occhi noi ci salutiamo seguitemi su instagram seguitemi qui su youtube lasciate un like al video se vi è piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo sempre qui sul mio canale youtube grazie a tutti